Almeno fino a giovedì prossimo difficilmente si registreranno arrivi nello spogliatoio bianco-verde. All'addio di Carriero e all'ultimo ingresso di Moretti, entro lunedì mattina seguiranno le note ufficiali del passaggio di Ciancio a Novara e Silvestri al Siena. La prossima settimana però Enzo De Vito spera sempre di trovare l'intesa anche con Francesco Forte, dal momento che con l'agente del portiere Maurizio De Rosa il dialogo è ripreso anche in prospettiva di un assalto al centrocampista Marco Armellino, che De Vito si è prefisso di lanciare tra un paio di settimane. Un lasso di tempo abbastanza lungo ma che finisce per essere dettato sia dalle difficoltà nello sfoltimento della Rosa che dalla necessità di far maturare al calciatore del Modena la convinzione che con i canarini di Tesserra troverà poco spazio nella serie cadetta. Strategia dell'attesa che non vale per il ruolo di difensore centrale, visto che Haia è atteso entro giovedì, e neppure per l'esterno sinistro di centrocampo. In quest'ultimo caso De Vito sta riflettendo tra Giovanni Pinto, trentenne svincolato dal Catania, da anni in seguito oppure da Salvatore di Somma, e Antonio Mazzotta del Bari, offerto venti giorni fa da Ciro Polito. Tra i due il favorito a vestirsi di bianco verde appare Pinto, assistito da Alberto Bergossi. L'esterno di Locorotondo, per esperienza, costo e adattamento al ruolo, farebbe davvero felice Taurino. Oltre ad Haia in difesa, intanto, potrebbe arrivare un altro elemento di grande esperienza, dal momento che Alberto Dossena, con contratto in scadenza del 2023, in caso di mancato rinnovo, sarà messo sul mercato. Sul fronte offensivo, infine, dalla lista di papabili, sta invece per essere depennato Ferrari. L'attaccante argentino, che ha salutato con un post Pescara, è nelle ultime ore tallonato con insistenza dal Vicenza di Baldini. Anche in questo caso, però, il DS non ha fretta, soprattutto perché in Rosa ci sono attualmente Maniero, Bernardotto, Plesce e Murano. Troppi centrali per un solo posto disponibile. Due di loro, Murano e Bernardotto, dovrebbero al momento restare, ma il condizionale è d'obbligo. In un mercato dove l'Avellino sta per il momento agendo in maniera sorniona, almeno tre innesti di grande spessore, è lecito attenderseli.